La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e viagliate con me, pregate per non cadere in tentazione. Ma cosa credi di fare? Guarda, mi fai pena, mi fai così pena che ti rinnovo l'offerta. Ricordatelo, io sono il principe di questo mondo e lo sarò sempre. Rostrati a me e il mondo sarà tuo. Allora potrei dire a tutti di essere più buoni, di comportarsi bene come piace a te. Panno, negaranno che sei esistito, negaranno che volevi fare questo, persino i tuoi ti dimenticheranno. Morirai come tutti i criminali dall'inizio fino ad ora, tutti quelli il cui nome è stato cancellato dalla storia. Guarda, guarda, c'è proprio ti va bene? Se così non siete capaci di vegliare quest'ora con me. Pregate, poi entrerete in tentazione. Ma non preoccuparti, ti vedremo prestissimo. Guarda, 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 guarda. Qui ti volevi fare? Chi di voi è Gesù il Nazaretto? Chi è? Sei tu, sei tu! Sono io! Salve, maestro! Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Siete venuti a prendermi con spada e bastoni come se fosse un brigante. tutti i giorni stavo nella sinagoga e nel tempio e non mi avete mai arrestato dietro, dietro gettala via perché chi usa la spada muore di spada presto portiamolo dai sacerdoti muoviti 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 Maria, Maria, dove è Maria? Giovanni, cosa è successo? L'hanno preso? Chi? Chi l'ha preso? Sì! Muoviti! Vai! Alzati! Su! Muoviti! Sviatelo su! Dai! Sviatelo su! Sviatelo su! Sviatelo su! Grazie! 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 Grazie!